Il sole ci invia una grossa quantità di energia che è utilissima per lo sviluppo della vita sulla Terra. Senza il sole non esisterebbe, però può essere dannosa se colpisce in dosi eccessive la nostra pelle. Da una semplice irritazione, un eritema solare, fino ad arrivare invece a conseguenze più importanti. Il sole è un importante alleato del benessere psicofisico dell'uomo, ma una scorretta esposizione può anche causare l'insorgenza di ustioni, eritemi, invecchiamento cellulare precoce sino alla comparsa di tumori. Gli ultravioletti che arrivano dal sole contribuiscono a quello che è il fotoinvecchiamento cutaneo. La nostra pelle, come tutti gli organi, invecchia. C'è un invecchiamento supplementare dato dal sole. Le rughe, le macchie, tanto per fare due esempi, sono accentuati dall'eccessiva esposizione solare. I problemi grossi invece sono quelli che non hanno solo una valenza estetica, ma riguardo alla nostra salute. Il sole, gli ultravioletti del sole, contribuiscono allo sviluppo di tumori cutanei. Fondamentale quindi proteggere la pelle dal sole senza rinunciare ai suoi benefici. La prima protezione può essere il vestiario, semplicemente, se si va a fare una passeggiata o anche sulla spiaggia, soprattutto per i bambini. Forse la cosa più semplice è tenerli vestiti con qualcosa chiaramente di leggero. Importante è anche l'utilizzo corretto della crema solare sin dai primi anni di vita. Sceglierla è in base sicuramente al proprio fenotipo. Come si sa, ce ne sono sei, penso che ormai sia di dominio pubblico. Si va dal primo al punto al sesto, quindi una pelle chiarissima fino a quella più scura in assoluto. Va messa spesso, direi ogni due ore? Sicuramente sì. Sicuramente appena si esce dal mare, dopo un bagno, è importante asciugarsi e riapplicare la crema, perché comunque una parte si perde e quindi va riapplicata. Quanta, anche quello, è molto importante. Si considera più o meno tipo una tazzina da caffè su tutto il corpo, chiaramente. Nel periodo estivo c'è un altro aiuto che ci viene dalla natura. Con l'alimentazione, frutte, verdura colorata, arancio, gialla, rossa, sono ricche di carotenoidi, di antiossidanti che in parte cercano di limitare quelli che sono i danni degli ultravioletti sulla pelle. La prevenzione dei tumori cutanei, infine, passa anche dallo screening dermatologico. Il controllo principale dovrebbe essere quello che ognuno fa a casa propria, cioè ogni tanto guardare la propria pelle, magari farsi aiutare da un familiare per controllare le spalle, i glutei, dietro le cosce, zone che difficilmente si esplorano da soli e controllare che non ci siano cose nuove, lesioni nuove, soprattutto differenti dalle altre che uno impara a conoscere guardandosi ogni tanto. E poi un controllo annuale con una visita dermatologica e una visita con il dermatoscopio per il controllo dei nei, devo dire che è un'ottima prevenzione e serve soprattutto alla diagnosi precoce.